Viaggiavano in direzione nord a bordo di un'auto sospetta. Un uomo e una donna provenienti dal sud Italia sono stati fermati dalla Polizia di Stato con una pattuglia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio nel corso dell'attività di vigilanza e controllo lungo l'autostrada A14 nell'area di servizio Conero Ovest nel comune di Numana. Risposte incerte, atteggiamenti sospetti e precedenti penali sono queste le motivazioni che hanno indotto gli uomini in divisa ad approfondire il controllo del veicolo. Da un primo esame l'auto è risultata intestata ad un'altra persona e dopo un'accurata analisi si sono scoperti due chilogrammi di eroina pura suddivisi in quattro involucri avvolti in cellofan e nastro adesivo contenuti in un vano appositamente creato nel bagaglio a doppio fondo tra il baule e il paraurti posteriore. Sul luogo anche i cani antidroga della questura e la polizia scientifica di Ancona. L'eroina avrebbe sviluppato sul mercato il doppio del quantitativo rinvenuto. I due corrieri sono stati arrestati per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati anche il veicolo e diversi cellulari. Il tutto è stato posto a disposizione della procura di Ancona da parte della squadra di polizia giudiziaria del compartimento. Ancona da parte della squadra di Ancona da parte della squadra di Ancona.